Buongiorno, fratelli e sorelle, siamo tutti uniti per celebrare il glorioso Fransi, la luminosa Pasqua di San Francesco. Sauvo nella fede, Francesco si è radicato e fondato in Cristo, sul fondamento della fede e di su. In questa celebrazione Francesco insegna anche a noi a vivere ogni nostro giorno con lo sguardo fisso su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a colpimento, per alimentare in noi la speranza e testimoniare la carità verso il nostro posto. Grazie. 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 Grazie.